Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi parliamo della risoluzione dei ponti termici. Se non sai che cosa sono i ponti termici, vai a leggere l'articolo o a guardare il video apposito. Se invece guardi questo video perché vuoi sapere come risolverli, te lo spiegherò subito. Ci sono due casi in cui si possono risolvere i ponti termici. Caso 1, nuova costruzione. Caso 2, ristrutturazione o solo sostituzione dei fissi. Caso 1 è quello più facile, basta fidarsi a un buon progettista, il progettista ti risolve tutti i ponti termici. Do per scontato che se un progettista progetta una casa oggi e lascia dei ponti termici, non dovrebbe neanche lavorare. Quindi il progettista magari ha aiutato da una figura come ad esempio un consulente per infissi che gli fa notare i punti dove si potrebbe migliorare il raccordo a muro, lui va a creare una casa dove non c'è nessun tipo di ponte termico. Quindi lì se scegli un buon progettista sei già sicuro. Nel secondo caso invece che è una ristrutturazione o ancora peggio una sola sostituzione di infissi, in quel caso lì ci si affida a chi andrà a fare il lavoro, all'artigiano che farà il lavoro. Come si risolvono i ponti termici? Si risolvono con l'equilibrio. Ti farò l'esempio dei casi più normali che possono capitare. Il caso più banale, la soglia o la banchina passante, la tua bella lastra di marmo che arriva dentro. Come si risolve? Flessibile, si taglia, si mette un materiale isolante che va a isolare e di sopra si può montare l'infisso. Oppure se vuoi mantenere le due soglie distaccate si fa un doppio taglio, si mette il materiale isolante e rimarranno il marmo dentro e il marmo fuori, ma verranno separati uno dall'altro dal materiale isolante. È un po' il concetto che succede negli infissi di taglio termico, nel vetro doppio, in tutte quelle cose fatte a sandwich dove nel mezzo viene messo il materiale isolante. Non c'è più continuità tra il freddo che prende il marmo fuori con l'interno. Ponte termico risolto. Lo puoi fare anche in una casa abitata, esistono macchinari appositi collegati ad un'aspirazione che non fanno polvere, quindi le signore o anche i signori che puliscono non si preoccupino. Poi l'altro ponte termico classico è il cassonetto. Sì, il cassonetto è un ponte termico perché se vado a cambiare un seramento, metto un seramento in classe A con una prestazione energetica incredibile e lascio il cassonetto di una volta, quello che è con uno spessore di 5 mm, quello diventa un ponte termico perché è un punto talmente freddo e soprattutto molto più freddo dell'infisso che anche se aprirò le finestre mi genererà sempre della muffa o della condensa perché è talmente freddo che appunto la rugiada, anche se è presente in maniera minima all'interno della casa, si andrà a poggiare proprio in quel punto. Si risolve installando un cassonetto con delle prestazioni equilibrate a quelle dell'infisso. Come sempre l'equilibrio è fondamentale nell'abitazione. Equilibrio termico, equilibrio acustico e equilibrio di sicurezza. Sempre equilibrio, mi raccomando. Un altro ponte termico che puoi trovare soprattutto se stai per sostituire degli fissi degli anni 80 è il controtelaio perimetrale metallico. Quello è un ponte termico, è uno dei peggiori, è peggio ancora del marmono inferiore perché il ferro è un materiale che conduce veramente tanto e lasciare quel controtelaio lì sotto un infisso di nuova generazione è un ponte termico che ti darà dei problemi per sempre. Quindi come si risolve? In maniera più drastica e più risolutiva si prende martello e scalpello e si toglie tutto. È un lavoro molto invasivo ma sei sicuro di risolvere il problema. Se vuoi attenuarlo si può prendere un macchinario che in sostanza è una specie di flessibile poi collegato all'aspirazione, va a fare un taglio sul perimetro del controtelaio questo taglio interrompe il passaggio di freddo ma non fa i miracoli potresti attenuare la temperatura di 1, 2, 3 gradi non ti aspettare miracoli, il risolutivo è togliere tutto. Questi sono i tre punti termici che possono capitare spesso in una sostituzione di infissi ed è facile risolvere, basta sapere come operare ora lo sai anche tu, mi raccomando attenzione ai punti termici. Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video! Ciao e al prossimo video!